Uno degli innumerevoli Cerchio umanità e movimento Uno degli innumerevoli apporti orali materializzazioni prodotte nella bocca dello strumento Gli apporti giungono come doni per i partecipanti o più raramente per la casa in cui avvengono le riunioni A volte sono apporti religiosi come in questo caso e a volte apporti laici come fiori d'argento, spille, anelli ed altro